Nino Galloni, fra i più affermati economisti italiani. L'emergenza sanitaria mondiale ha generato sconvolgimenti e ripercussioni in ambito politico, sociale ed economico. Qual è oggi in Italia il quadro della situazione a livello economico? Bene, distinguiamo la causa apparentemente sanitaria dalle conseguenze economiche. Conseguenze economiche sono molto gravi, soprattutto in Italia, forse è il paese che le subirà e le subisce in modo più drastico, anche per le scelte che sono state fatte. Più passa il tempo e più si vede che questo virus era un virus blando, la gente è morta per cure sbagliate o perché aveva sistema immunitario o altre questioni sanitarie piuttosto gravi. Non a caso nei paesi dove il virus è circolato di più, per esempio i paesi poveri, paesi del terzo mondo che non hanno assolutamente sistemi sanitari di nessun tipo, la mancanza di cure e la mancanza di precauzioni hanno determinato un numero di vittime molto più basso. Adesso c'è in corso una polemica, per esempio, sulle mascherine e su tutto quello che praticamente va, il distanziamento eccetera, va a peggiorare le nostre difese immunitarie, soprattutto dei più giovani. Quindi se è vero che le persone anziane immunodepresse andavano in qualche modo protette e curate in modo adeguato e non inadeguato, è anche vero che nella grande massa della popolazione i contatti, una vita normale, eccetera, eccetera, poi i medici possono dare dei dettagli maggiori ovviamente di un economista, ma un altro completamente diverso approccio avrebbero determinato non solo meno vittime e meno malati gravi, ma soprattutto un miglioramento della situazione, con il rischio che adesso, facendo diminuire le difese immunitarie della popolazione, se arrivasse un virus come quelli di una volta, signora mia, temo che le conseguenze sarebbero più gravi. Quindi adesso non me la voglio cercare, come vuol dirsi, facciamo le cosiddette corna, però attenzione. Ora l'eccesso di precauzioni preso a livello nazionale, quando c'erano dei focolai importanti in alcune località della Lombardia, non a Milano, ma c'è tutto un giro intorno a Milano, che mi ricorda molto la tecnica degli incendi dolosi come situazione, cioè tutto intorno ci sono tutti questi focolai, con un paio di eccezioni, una cosa nelle Marche e una cosa in Emilia. Poi sì, una stupidaggine a fondi, ma voglio dire, in realtà la situazione è quella che è. Però le misure che sono state prese in un momento in cui la situazione economica era già gravissima, perché l'avevamo denunciato in tantissime interviste anche su questo canale, ha trovato poi una esplosione in negativo, una implosione ancora più raccapricciante. Oggi noi avremmo assolutamente bisogno di quelle misure di cui io parlavo molto prima dell'esplosione dell'emergenza, e cioè moneta non a debito, moneta parallela, moneta statale, quello che i trattati europei consentono, o meglio non proibiscono e quindi se non lo proibiscono si può fare, per dare un po' di potere d'acquisto alla gente, per avere una spesa pubblica adeguata alle esigenze. Uno dei problemi che è venuto fuori è che si era tagliato troppo nella sanità. Adesso si sta spendendo a rotta di collo nelle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine devono garantire l'ordine, ma si è creata il prezzo di questo ordine, è una spaccatura che rischia di essere insanabile tra i cittadini e le forze di polizia. Cioè ogni volta che si intraprende una misura porta danni estremamente più gravi di quello che sarebbe stato non prenderla. Ora nel campo dell'economia dicevo la prima cosa sarebbe quello di sostenere la domanda interna, quindi dare soldi alla gente, non arriva neanche la cassa integrazione e i 600 euro a tutti quelli che ne avrebbero urgente bisogno almeno per andare avanti qualche settimana. Questo è estremamente preoccupante, perché allora anche i distanziamenti di cui parlavamo prima, eccetera, mettono in crisi turismo, ristorazione, tutta una serie di settori, i quali si rendono conto che con il dimezzamento del fatturato giù di lì, non conviene neanche riaprire. Questo è il problema. Quindi se avremo una diminuzione della domanda che viaggia intorno al meno 15% del PIL verso fine anno se non ci saranno dei miracoli, un calo del gettito fiscale che poi vedremo avrà altre conseguenze e che sicuramente non sarà minore del 15%. A quel punto potrebbe succedere che il calo dell'offerta, cioè della chiusura delle imprese, sia più consistente del calo della domanda e quindi in quel momento con delle situazioni di tensione sociale si inietterebbero nel sistema delle risorse monetarie che creerebbero inflazione se le imprese non corrispondono alle richieste. E l'ultimo aspetto che mi preoccupa moltissimo e che vorrei sottolineare è che si potrebbe creare per un problema di cassa dello Stato, cioè dell'Inps, un conflitto fra pensionati e dipendenti pubblici da una parte, di cui una parte consistente abbiamo detto sono le forze dell'ordine e dall'altro il resto della popolazione e soprattutto partite IVA, piccoli imprenditori e altre categorie. Quello sarebbe uno scenario veramente raccapricciante in cui non solo avremmo una catastrofe economica ma probabilmente anche una catastrofe politica più grave di quella che abbiamo avuto nei mesi precedenti con la completa sospensione delle garanzie costituzionali. Parlando delle scelte che sono state prese dall'attuale governo, ritieni che ci siano delle misure che si dimostreranno meno efficaci rispetto ad altre. Io penso che questo governo abbia preso una decisione importante e positiva nel campo dell'edilizia, delle ristrutturazioni con finalità ecologiche, riconoscendo un 110 per cento di credito d'imposta, il che significherà che chiamando una ditta diciamo così solida, io faccio fare a casa mia che sia ricompresa in quello che è la casistica ambientalistica di cui stiamo parlando, 50 mila euro di lavori o un credito d'imposta di 60 mila euro, però non devo tirare fuori 50 mila euro per vedermi riconosciuti i 60 mila di credito d'imposta, ma è l'azienda che ottiene i 60 mila di credito d'imposta a fronte dei 50 mila che li devo pagare io, poi magari si può vedere se addirittura io ottengo i 10 mila euro, il 10 per cento in più l'ottengo io, 5 mila quello che è, li ottengo io oppure se li prende l'azienda, oppure può darsi che se ci si mettono in mezzo le banche si prenderanno il loro congruo profitto. La richiesta dei prestiti da 25 mila euro non è decollata diciamo, che cosa non ha funzionato? L'idea, non ha funzionato l'idea, cioè questi imprenditori non è che si debbono indebitare ulteriormente per affrontare la situazione, se non intravedono, non possono intravedere prospettive di guadagno, se io so che il mio fatturato aumenterà, io mi indebito per fare quegli investimenti necessari a realizzare quel fatturato e quindi so che guadagnerò e farò guadagnare anche la banca, ma se io so che il fatturato mi diminuirà, che sono già pieno di debiti, che le cose andranno male, se mi vado a indebitare sono un pazzo, ma fra l'altro le banche sono state falsamente disponibili perché che che abbiano detto al governo poi non hanno fatto quello che hanno promesso e hanno detto ai clienti che dovevano prima saldare i debiti pregressi con le banche, con loro e poi avrebbero avuto accesso magari per il residuo eccetera. Questa cosa è stata assolutamente contrastata dal governo ma le banche hanno continuato a farlo, ce l'ha rivelato in una diretta televisiva un sottosegretario al Ministero dell'Economia. C'è il rischio che il governo ricorra ad una patrimoniale sulla ricchezza degli italiani? Ecco, questo sarebbe un errore gravissimo perché in questo momento abbiamo bisogno di unire e non di dividere gli italiani. La patrimoniale è una tassa che divide i ricchi dai non ricchi, non dimenticandoci che oggi è molto difficile distinguere, a parte il top della ricchezza e i poveri veri e propri all'interno della classe media cosa c'è? Perché ci sono aree di elevatissimo benessere e situazioni che neanche ti immagineresti ma che è gente che è scivolata verso il limbo della povertà, della semipovertà e della non agiatezza. Quindi si potrebbe unire oltre al danno la beffa, noi dobbiamo unire, che vuol dire unire? Dobbiamo dire ai ricchi signori abbiamo bisogno dei vostri soldi però invece di farvi la patrimoniale, invece di aumentarvi le tasse ve li chiediamo in prestito quindi ve li restituiremo, quando li volete ci avvisate vi diamo la liquidità se ne avrete bisogno ma vi remuneriamo perché le obbligazioni italiane sono altamente remunerate altamente appetite come dimostrano i dati del mercato però evitando le banche che si sono sempre messe di traverso quando gli italiani dovevano e volevano comprare i titoli, criticando negli anni 80 quando i bot rendevano il 16 il 17 per cento e gli italiani li compravano perché bene o male ci si faceva un secondo stipendio, poi certo questo ha scassato i conti dello Stato però si sa che ricchezza privata è debito pubblico quindi non è una novità. Adesso io non sto proponendo quel modello lì però sto dicendo noi dobbiamo portare avanti delle politiche che uniscano gli italiani, tutto quello che si sta facendo è divisivo e se si farà una patrimoniale, un aumento di tasse sarà ancora peggio. Un MES senza condizioni rappresenta una misura da utilizzare? Allora qualunque debito a cominciare dal MES ma anche il Recovery Fund e altre modalità che aumenti cozza contro il principio fondamentale che io ho annunciato mesi prima del Covid e cioè che la redditività della gran parte degli investimenti era negativa quindi se la redditività è negativa vuol dire che sottraendo dal fatturato tutti i costi non ce n'è per i profitti, non ce n'è per i salari, non ce n'è per le tasse, ce n'è solo per le rendite finanziarie. Quindi questo è il problema. Noi dobbiamo uscire da questa trappola, è la trappola del debito. La trappola del debito ha funzionato benissimo per millenni e negli ultimi secoli di fugure del capitalismo. Nel momento in cui la maggior parte degli investimenti non si fa perché non ha una redditività sufficiente, io non mi posso indebitare per fare un investimento che non è redditizio, ma se l'investimento lo devo fare perché è strategico, perché è necessario, perché la popolazione me lo chiede, allora devo cambiare il paradigma. Questo è in ballo oggi, questa è la sfida di oggi. Quindi anche il recovery fund, la proposta franco tedesca che in questo momento non è ancora chiara in termini di condizioni, potrebbe nascondere dei rischi per l'Italia? Allora, la Francia e la Spagna si erano mosse verso i titoli irredimibili, cioè praticamente gli enti pubblici emettevano dei titoli di cui non sarebbe mai stato restituito il capitale principale, ma che rendevano un tot, un minimo, perché oggi tasse di interesse sono bassi a tempo indeterminato. Quei titoli poi la BCE li avrebbe cancellati. L'Italia non si è buttata a fare un'alleanza con Francia e Spagna, alla fine la Francia ha optato per un accordo con la Germania che a sua volta lasciava i suoi partner più estremisti, cioè l'Austria, l'Olanda e altri e arrivava a questa idea. Allora la Francia vuole che questi fondi del recovery siano praticamente dei trasferimenti e questo a noi andrebbe benissimo. La Germania pare che abbia qualche accordo con la Francia al proposito, seppure condizionati a determinate utilizzazioni, ma i paesi del Nord Europa vogliono che siano dei debiti, ma che devono essere istituiti con le modalità e date delle garanzie o accettate delle intromissioni nella sovranità di ciascun paese. Quindi è chiaro che adesso al di là del dettaglio di quali siano le condizionalità, qualunque debito in una situazione in cui la redditività è bassa, ovvero il fatturato non è così grande da assorbire i costi e lasciare risorse per i profitti, per i salari e per le tasse, oltre che per pagare le rendite finanziarie, visto che le rendite finanziarie vanno pagate per prime in una situazione di indebitamento, perché se no si chiama default, allora nessun debito va bene, questo è l'ABC di una situazione come l'attuale, ma mi pare che non si voglia capire questa elementare verità. Solidarietà e unione sono alla base dei principi europei. Nel momento in cui alcuni piccoli stati si oppongono in un certo senso o comunque negano aiuti economici a fondo perduto, questo non mette a rischio la sopravvivenza stessa del continente, dell'intero continente Europa? Beh, diciamo che non saremo noi a stracciarci le vesti se quello che lei dice accadrà, anzi in un certo senso per quello che ho visto soprattutto negli ultimi anni, a cominciare dall'emergenza immigrazione, per continuare l'emergenza economica, per arrivare all'emergenza coronavirus, e Dio ce ne scampi e liberi che non ci sia qualche altra emergenza ecologica o di terremoti o cose del genere, questa è una disunione europea, non ci sono proprio le condizioni per continuarla, però certo non conviene all'Italia sottrarsi lei autonomamente perché verrebbe sommersa dalle passività che sono di meno di quello che pensiamo perché molto debito pubblico ce l'hanno soggetti nazionali, ovvero le banche centrali e quello voglio dire non va considerato, però comunque ci sono tanti soggetti stranieri che possiedono il debito pubblico e con i quali ci siamo impegnati a pagare interessi e rimborsi in euro, quindi se l'euro esiste l'Italia è tenuta a pagare in euro come se li procura se sono stati tolti dal circuito nazionale ma rimangono nell'obbligazione e nel circuito internazionale, invece se saltasse la baracca non sarebbe colpa dell'Italia e quindi potrebbe ripagare anche gli investitori stranieri in un'altra valuta, per esempio quella nazionale e questo si chiama monetizzazione del debito ed è la cosa più augurabile per il futuro delle prossime generazioni. Un'altra proposta è quella sul piano Marshall europeo, lei come valuta questa proposta? Beh, quali sono le condizioni? Il piano Marshall fu, come dire, approvato e praticato in base ad uno scambio politico molto preciso, cioè non sarebbero arrivati i fondi se i comunisti e i socialisti fossero rimasti nel governo di De Gasperi e quindi uscirono e i fondi furono importanti, però eravamo in un'altra economia in cui gli investimenti erano molto più redditizi e quindi i debiti non erano così importanti, l'indebitamento non era così importante. Figuriamoci se poi come nel piano Marshall non si parla di debiti ma di trasferimenti finalizzati alla crescita produttiva che poi in qualche modo vengono cancellati, perché il creditore che concede il prestito può decidere di cancellarlo, quindi se il creditore è una banca centrale o qualcosa del genere può decidere una volta che il sistema sia a regime di cancellare il proprio credito, però non lo può cancellare il debitore. Una moneta parallela potrebbe rappresentare una risposta a questa crisi? La moneta parallela è una necessità ineludibile prima di questa crisi, diciamo, da coronavirus. Già ai tempi di quella che io dichiaravo una crisi economica, evidente per le ragioni che ho cercato di spiegare anche in questa intervista, che è legata alla redditività degli investimenti e quindi se vogliamo cambiare paradigma al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Quindi è chiaro che una moneta non ha debito, questa sarebbe la sua caratteristica, cioè una moneta che non deve essere ripagata, che non viene fuori in base a un debito, ma è una moneta direttamente immessa nel circuito dallo Stato perché trova nel tessuto economico imprese, capacità produttive e lavoratori tutto disoccupato che si occupa grazie a questa immissione. Questo crea un grande aumento della ricchezza e rende il bilancio dello Stato sostenibilissimo. Come cambieranno gli equilibri economici tra le grandi potenze mondiali a seguito di questa pandemia? Ma io credo che dietro ci sia un gran teatrino, perché io guardando alla sostanza capisco che Trump, Xi e Putin e Modi vogliono la stessa cosa, cioè vogliono ritornare a un sistema keynesiano di sviluppo in cui però bisognerà fare i conti con la questione della redditività e la differenza dei tempi di Bretton Woods o degli anni 30, però quella è la direzione. Tuttavia non è una direzione che piace ai grandi poteri finanziari mondiali, i quali sono contrari a questi personaggi. Quindi il vero scontro è fra certi poteri finanziari e il quadri unvirato Putin, Trump, Xi e Modi perché sono... certo ci dovremmo mettere dentro l'Europa, ma l'Europa non si capisce mica da che parte sta l'Europa, la disunione europea non si capisce mica da che parte stia, perché un giorno stanno con Trump, un giorno fanno la guerra a Putin, un giorno cercano un nuovo rapporto con Putin, ci sono i filo cinesi, non ci sono i filo cinesi. C'è una grande confusione, secondo me l'emergenza sanitaria si è alimentata e ha alimentato questa grande confusione. Mi pare che sulla scena siano pochi quelli che sanno che pesci filiare e quindi ognuno un po' andrà per la sua strada, si faranno degli accordi che noi umani non sappiamo e poi alla fine ci troveremo davanti a uno scenario su cui possiamo fare solo delle ipotesi. Io vedendo alcune cose legate soprattutto alla questione dei vaccini, il brevetto 666, le gates dell'inferno e tutte queste cose mi sembra troppo evidente che i 5G che fanno venire, che fanno male, i vaccini che predispongono alle malattie, devono diventare obbligatori, bisogna aumentare le difese immunitarie della popolazione però non possiamo stare al mare, al sole, sulla spiaggia che sono gli unici posti che tutti i medici hanno detto non albergano virus, allora non ci possiamo andare. Mi pare che ci sia tutto un imbroglio generale che quando calerà il polverone che si è sollevato probabilmente cosa dobbiamo aspettarci? O una grande presa di coscienza della popolazione che si ribella e rimette le cose al loro posto avendo come stella polare per quello che mi riguarda la Costituzione della Repubblica Italiana oppure arriverà inaspettatamente in pompa magna un salvatore che ci obbligherà a qualche cosa che noi accetteremo di buon grado pur di scansarci i vaccini, i 5G e tutto il resto appresso. Queste sono ipotesi però ecco qui entriamo in un campo in cui si sbizzarrisce la mia fantasia ma ovviamente la mano sul fuoco non ce la possiamo mettere. Per le altre cose la mano sul fuoco invece ce la metto. Saranno necessarie delle riforme radicali del sistema economico sia nazionale che europeo nel post Covid. Non è che sono evitabili però bisogna intendersi sulla loro natura perché per gli olandesi significa che noi dobbiamo sputare lacrime e sangue. Per me significa che dobbiamo lasciare un paradigma che non funziona più e avviarne un altro in cui la moneta non ha debito e i tassi di interesse negativi delle banche risolveranno almeno momentaneamente il problema.